Nel 1337, Azzo da Correggio edificò la Rocca di Colorno insieme alla Rocca di Guardasone per avere due fortezze, a Levante e Ponente di Parma, a difesa dell'Oltrepò. La Rocca di Colorno venne ristrutturata nel secolo XVI dalla bellissima, a quanto si dice, e raffinata contessa Barbara di San Severino, cantata da Torquato Tasso nel sonetto In lode dei capelli di Donna Barbara San Severini, contessa di Sala, che la trasformò nel palazzo, sede della sua corte, e di una ricca raccolta di dipinti, da Tiziano a Correggio, da Mantegna a Raffaello. Dopo la confisca dei beni della contessa, da parte di Ranuccio Parnese, avvenuta nel 1612, il palazzo fu nuovamente ristrutturato e assunse l'aspetto attuale. In seguito al Trattato di Apisgrana, 1748, che concludeva la guerra di successione austriaca, il Ducato di Parma e Piacenza passò da Maria Teresa d'Asburgo ai figli di Elisabetta Farnese ed il re di Spagna Fulicco V di Torriera. Carlo lo abitò di malavoglia e per poco tempo, dal 1731 al 1735. Trasferitosi dopo la conquista del regno di Napoli in quella città, portò con sé nella regia di Capodimonte le collezioni d'arte e gli arredi del tempo dei Farnese. Sumentrato al fratello, Filippo si installò nella reggia in pianta stabile insieme alla moglie Luisa Elisabetta, figlia del re di Francia Luigi XV, alla quale i cittadini di Colorno furono presto felici di riferirsi con il nome con cui i familiari della duchessa le si rivolgevano affettuosamente. Babette portò un tocco di Francia nella cucina parmigiana, così come nella reggia. Sul suggerimento dell'illuminato Guillaume Dutillaud, ministro dell'economia pubblica e degli affari esteri, affidò la ristrutturazione della residenza ducale all'architetto Ennemon Alexampetitou, che operò per far sì che gli interni del palazzo somigliassero alla reggia di Versailles. Il successore, Ferdinando, preferì abitare in un edificio ottivo al palazzo, in un appartamento dotato di una biblioteca con più di 6.000 volumi e di un osservatorio astronomico. L'uomo pio, reazionario, bigotto, introverso e appassionato di astronomia, fece ricostruire l'oratorio di corte di San Diborio, invertendone la pianta per renderlo più accessibile alla popolazione. Fece inoltre costruire il convento dei Dominicani e tornare l'inquisizione. Convento e oratorio erano collegati al suo appartamento privato da passaggi e culti. Annesso da Napoleone il ducato di Parma alla Francia, la residenza fu decretata palazzo imperiale, ma in seguito al congresso di Vienna nel 1815 passò alla moglie di Napoleone Maria Luigia d'Austria, che trasformò il giardino all'inglese. Con l'unità d'Italia, i Savoia cedettero il palazzo Aldemagno, non prima di aver trasferito tutto quello che aveva un valore, nelle loro varie residenze in giro per la penisola. Il Quirinale a Roma, Palazzo Pitti a Firenze, Palazzo Reale a Torino e la palazzina di caccia di Stopinigi. Dopo l'acquisto nel 1870 da parte della provincia di Parma, il palazzo fu adibito a ospedale psichiatrico, e tale rimase fino al 1978, quando la legge Basaglia decretò la chiusura dei manicomi. Perfettamente integra è la chiesa di Corte di San Diborio e l'organo Serassi, che conta ben 2898 canne e viene normalmente utilizzato per concerti. Oggi, il complesso è aperto al pubblico per visite guidate, mostre d'arte e serate musicali ed intrattenimento. in un'area del palazzo ha sede ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana, il più autorevole centro italiano di formazione culinaria a livello internazionale, fondata dal maestro Gualtiero Marchese. Il parco, sviluppato nel 1749 dal giardinieri di Versailles, François Antetil, detto il delirio, su disegno del titolo, è stato restaurato dalla provincia di Parma tra il 1998 e il 2000 sui progetti originali.